Il progetto prevedeva un villaggio turistico con villette a schiera, villette singole, piscina, campi da gioco, bar, ristorante e zona campeggio da 48 posti e servizi annessi. Il punto forte sarebbe stata proprio la piscina, attorno alla quale si sarebbe snodato tutto il resto, tra percorsi pavimentati e sentieri immersi nel verde. A regime avrebbe dato lavoro ad una decina di persone, il tutto in una zona agricola, sulla strada che da Santa Cesarea porta a Cerfignano. Tutto pronto quindi, per questo il comune di Santa Cesarea, sfruttando la legge che consente di incentivare l'economia locale a patto che si prevedono almeno dieci posti di lavoro, ha presentato alla Regione Puglia la richiesta di firmare l'accordo di programma, grazie al quale sarebbe stato possibile dare il via ai lavori di costruzione del villaggio turistico. Ma l'accordo, per l'aggiunta, non sa da fare. Dall'esecutivo regionale, dopo gli approfondimenti condotti dall'assessore all'urbanistica Angela Barbanente, è arrivato un secco no. L'aggiunta, si legge nella decisione deliberata di recente, non autorizza la ratifica dell'accordo. E le motivazioni sono anche molto chiare. L'area scelta, in zona San Giovanni, vicino alla provinciale Santa Cesarea Cerfignano, risulta ricadente in una zona di notevole interesse pubblico, perché è presente ancora intatta la sua originaria bellezza e forma, degradando repentinamente verso il mare, un altipiano roccioso a guisa di anfiteatro, circoscritto da una pineta di origine artificiale, impiantata nel 1933, la quale tende sempre ad espandersi con i nuovi rimboschimenti. Inoltre, per le sue macchie verdi ed essenze locali, si legge ancora, costituisce un quadro naturale di grande suggestività, nonché per i resti di antichi monumenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale. L'area in oggetto, dice ancora il documento, ricade peraltro nella zona Iba 147, ovvero la costa tra Capo D'Otranto e Capo Santa Maria di Leuca. In buona sostanza, la zona dove dovrebbe sorgere il villaggio turistico è a strappiombo sul mare, con muretti a secco, paghiare, roccia tipica, e per questo fragile. Realizzarlo significherebbe, e questo è il parere tecnico, rendere artificiale un paesaggio naturale di tale portata, visto che, oltretutto, sarebbe inevitabile lo spietramento dell'area per poter realizzare le opere previste, modificando così inevitabilmente l'assetto geomorfologico della zona. Di qui la decisione, ufficializzata in giunta regionale, di non acconsentire la ratifica dell'accordo.